Siamo le ragazzine. Sì, sì, sì. Che sei? Che sei? Io ti sorveglio, sai, se scavo. Sì, no. Una donna. Lei è a Stelva, non vieni, però, così vieni. Sono bella de' uno. Dale, vieni qua. Eh, scusate, voglio anch'io capire la foto. Vieni, vieni, vieni qui. Qua, qua, qua. Giù, 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 giù. Dov'è Selva? Seda, tieni al bambino. Vittoria, ragazzi, vittoria. Un'altra volta che facciamo ancora di più, ragazzi. Qui dade? Noi siamo sempre pronti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate, mi fate una foto con Nadia Martellana? Chi mi fa una foto? Io vi saluto perché... All'oro che sono le due donne. Grazie. Chi mi fa unaLine? Chi... Grazie a tutti.